Ultimo banco, arte del calcolo manco Sogno pacchi di verdoni gialli, stancarmi di farli Prende fogli dal cassetto senza più contarli Metto questa cima in canna senza grindarla Sfiori il collo e lei si bagna senza manco toccarla Testa coda con Mercedes senza manco graffiarla Porto Roma su una spalla perché adoro trasportarla La mia squadra per la strada è religione Tutti sanno il nome, ci odiano e ci amano per l'ambizione È strano quanto ognuno ti ama, sei denaro fama Strano quanto se finisce tutto, nessuno ti chiama Scoprano a ta festa che mi porta via con se Infino a svolte del bicchieri Fì l'ultimo bicchieri Pli compro l' Winferia Cambierò una di tesere Butterò se te il penere Cambierò una di tesere Scoprano a ta merda che mi porta via con se Quindi?!? Fì l'ultimo bicchieri Comprano una fuori serie Cambierò una di tesere Butterò se te il penere Butterò se te il penere Un saluto ai cari amici del canale YouTube The Crazy Marco 78 per informarvi che la puntata prevista per domani sera sulla vita e la carriera musicale del grande rapper romano Nois Narcos è stata rinviata di una settimana, quindi la proporremo il prossimo sabato quindi non domani ma tra otto giorni, su The Crazy Marco 78, a partire dalle ore 23 sarà un'occasione irripetibile non solo per divertirci ascoltando la musica antisistema del grande Nois, ma anche per fare il punto sul nostro canale e su quello che sta succedendo nel mondo perché non dimentichiamolo mai, al di là della splendida erection che ci aspetta sabato prossimo The Crazy Marco 78 è contro informazione, contro cultura, contro gli organi di Stato e lo facciamo 7 giorni su 7 dai 5 continenti, 24 ore su 24 ragazzi ci vediamo tra una settimana, su The Crazy Marco 78, ciao! Ciao!